E sei venuto fin qui per dirmi questo? Dopo dopo non ho tempo. Il peccato più grande per noi preti è giustificarsi, scusarsi. Non mi sto scusando, sto solo dicendo che non sono adatto a fare il cappellano. Adatto non è nessuno, ma bisogna pure che qualcuno lo faccia. Ma io non ho quella comunicativa che aveva don Clemente. Non riesco a parlare con parole che vanno diritte al cuore. Io sono abituato a un lavoro fatto di silenzio, di solitudine. Un lavoro che per qualche tempo lascerai ai tuoi assistenti. No, io ti capisco, l'obbedienza non piace a nessuno. Va bene, allora facciamo così. Tu per un certo periodo di tempo cercherai di fare del tuo meglio ad interim. E io tenterò di trovare qualcuno che possa sostituirti. Non sarà facile, ma ci proverò. Non siamo altro che servitori inutili. Quindi non prendertela né con il padrone lassù, né con i tanti padroncini che sono sotto di lui. Ah, un'ultima cosa. Come certo saprai, don Clemente aveva una piccola parrocchia. La chiuderemo, probabilmente. Però credo che sia tu la persona più giusta a cui affidarla.